Una storia vera per un racconto bellissimo, denso, appassionante, coinvolgente e soprattutto a lieto fine, fatto non consueto quando i luoghi e le vicende narrate si intersecano con i campi di concentramento nazisti e i loro metodi nella gestione dei prigionieri deportati. Ma Angelo Gatto, giovane allievo ufficiale dell'aeronautica, fatto prigioniero dai tedeschi prima di aver combattuto anche un solo giorno, riuscirà ad aver salva la vita grazie al più fulgido dei suoi talenti, l'arte del disegno. E sarà proprio grazie a questa infatti che Angelo riuscirà ad evitare la morte più volte incrociata durante la sua prigionia, fino alla liberazione, annunciata al protagonista da una stella sulla fiancata di una jeep. Erano arrivati gli americani, erano liberi e vivi. L'arte aveva sconfitto anche il nazismo. Un messaggio forte che lo spettacolo ci rimanda pienamente. Priva di fronzoli narrativi, asciutta nella resa scenica, la PIS tiene il pubblico aggrappato al racconto per tutti i 75 minuti dello spettacolo. Eccellente la narrazione di Marco Ballestracci, autore del testo, che alla narrazione interseca le illustrazioni firmate dal figlio di Angelo Gatto, Alessandro, anche egli illustratore, e le raffinatissime musiche eseguite al violoncello d'Alessio Pianelli. Minimale la regia di Bettino Sciuto, che lascia ampio spazio al racconto e alle suggestioni che lo stesso riesce a dettare. Insomma, il classico piccolo spettacolo teatrale di cui innamorarsi. Ed il pubblico ancora una volta non si è fatto pregare, gremendo tutti i posti disponibili nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid. Un nuovo successo per gli amici della musica di Trapani, che ora danno appuntamento al terzo degli spettacoli in cartellone. Domenica 13 giugno in scena, sempre alla chiesa di Sant'Alberto, il trio Raffaello. Sugli spartiti, musiche di Bvorak e Beethoven.